Bambini, ciao! Non potete capire che cosa è successo oggi? È arrivato il libro di Alissa! Sì, è vero! E io stavo completando questa pagina. Che cosa devi fare in questa pagina? Devo trovare questi oggettini. Ho trovato una foglia. Tanti, come voglio là, lo trovate. E gli uccellini in quel boschetto là. Oh, c'è nove! Vado su questi. Ami, quante cose hai trovato? Queste. Caccia al tesoro? Sì. Donna con gli occhiali, eccomi. Sì, sì, donna con gli occhiali. Ok, fatto! Mi piace tanto il vostro libro. Sì. Ma oggi voglio proprio fare questa accetta. Qual è? Questa! Mmm, che buona merenda! Va bene! Ok, ciao, la dette. Io... Sfoglia ancora il tuo libro? Sì. La scatola misteriosa. Mangia le caramelle. Ah? Il mio amarello della felicità è così. Adesso è così. Quello che è esse è questo. Sì, e tu? E quello che è questo per adesso. Adesso devi colorare, però, vero? Sì, c'è scritto, vado a casa di un amico, mi mangio le caramelle, canto al microfono, poi lecco il libro. Bello! Cos'è il nostro pollo. Cos'è il nostro pozzo? Cos'è il nostro pollo. Cos'è? Cos'è? Cos'è il nostro pollo? Cos'è? Se il sogno chiama, se il sogno chiama, la mia coca risponderà E fare un mio libro, Alessandro Anche tu vorresti fare un libro tutto tuo? Sì Bambini, questo libro è veramente bellissimo, che si chiama Scaccianoia Ed è proprio vero, ti ci sei divertita moltissimo, vero? Qui sotto nella descrizione vi lasciamo il link dove l'abbiamo comprato Ciao Alessandro, ciao Dania e ciao Silvia, iscrivetevi anche voi al mio canale E grazie per aver commentato due dei nostri video sulle ricette Vedete il video con il vostro libro, ciao! 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 Ciao!